Un sole estivo ha accolto i numerosi visitatori della giornata inaugurale della 24esima edizione di Navigare, l'Expo in mare della Nautica in Campania. Evento aperto tutti i giorni a partire dallo scorso sabato fino a domenica 30 ottobre, in svolgimento al porto turistico di Baia. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Nautica Regionale Campana, con il patrocinio e sostegno della Camera di Commercio di Napoli e della Regione Campania, ha registrato nella giornata inaugurale un nutrito pubblico e la piena soddisfazione delle istituzioni. Il porto di Baia, arredato con un ampio villaggio che ha occupato il molo con oltre 30 stand che hanno ospitato espositori di accessori e servizi della Nautica, ma anche istituzioni ed enti, è diventato così il salotto buono di Bacoli. Oltre 2.000 persone hanno affollato dalle prime ore del mattino il villaggio ai Pontili, dove sono esposte 107 imbarcazioni. Per domenica sono previste almeno il doppio delle presenze. Il sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, che ha tagliato il nastro inaugurale con gli altri rappresentanti delle istituzioni, ha così commentato. Per noi è un'opportunità oggi avere a Baia questo evento di trattatura nazionale, per noi è un'opportunità di poter promuovere il territorio ed ergere Bacoli come capitale della Nautica Campana. Quindi l'obiettivo è questo, quello di promuovere il territorio, di creare anche economia attorno a questo che è un indotto fondamentale ed importante presente anche sul territorio e quindi anche quello di parlare di quella che è la cosiddetta, spesso si parla della risorsa mare. Quindi l'obiettivo nostro e l'amministrazione è quella di portare avanti anche una opportunità di portistica da riporto che comunque possa essere recettiva anche 12 mesi l'anno. E quindi questi si creano tutti i presupposti in modo da poter incominciare a creare un colloquio, un'interlocuzione con l'ente regione che per noi è fondamentale. All'evento era presente anche Marco Di Stefano, assessore provinciale risorsa mare. Abbiamo delle bellezze straordinarie, Baia come voglio dire che è stata scoperta dall'antichità per le sue caratteristiche, per le sue connotazioni anche di riservatezza dello specchio d'acqua. Ha una condizione particolarmente attrattiva. Soddisfatto Marco Monsonru, presidente dell'Associazione Nautica Regionale Campana. Importantissima navigare organizzata da ANRC, Associazione Nautica Regionale Campana, un'associazione di operatori che organizza una fiera per gli operatori. Ci sono tantissime barche in esposizione, quindi uno sviluppo anche per il diporto? Certamente, abbiamo oltre 100 barche a mare e 30 gazebi a terra. Sicuramente un'offerta espositiva importantissima per il territorio e per l'industria campana. Interessante Grazie Grazie a tutti